Miei carissimi amici di Investire in Borsa a Caccia di Dividendi, buongiorno, bentornati e bentrovati e soprattutto buon weekend. Come sempre sono Lorenzo, ci affrontiamo insieme tematiche di investimenti per cercare di ottenere il meglio dai nostri soldi, il meglio dai nostri risparmi e oggi vedremo insieme quali sono i migliori ETF per investire i nostri soldini faticosamente guadagnati e faticosamente risparmiati. Perché andare a selezionare i migliori ETF? Perché, notizia dell'11 settembre 2020, come possiamo vedere, il numero di ETF disponibili su Borsa Italiana, quindi nel segmento ETF Plus, sono arrivati a 1.288. Ogni tanto ne viene delistato qualcuno, cosa vuol dire che ogni tanto viene eliminato dalla Borsa, probabilmente perché ha pochi volumi, probabilmente perché non ha raggiunto quel patrimonio tale che permette economie di scala, all'immettente dell'ETF e ogni tanto invece ne vengono proposti di nuovi sul mercato, in questo caso era stato proposto un nuovo ETF, o meglio il primo ETF di Tabula Investment Management. Però abbiamo visto 1.288 ETF disponibili su Borsa Italiana, notizia del 1 settembre, oggi siamo in ottobre, probabilmente il numero è ancora variato. Inutile comunque andare a vedere giorno per giorno quanti ETF esistono sul mercato, chiaramente non si può andare a conoscere tutti i 1.288 strumenti disponibili, bisogna fare giustamente una selezione, a meno che non si abbia un capitale a disposizione tale da arrivare a investire, non dico in tutti, ma comunque in buona parte di questi. È comunque decisamente controproducente andare a spezzettare eccessivamente il proprio patrimonio in tanti tipi di investimento, anche perché spesso gli ETF possono presentare caratteristiche simili tra loro. Qui andremo a vedere quali sono i migliori ETF nei quali investire. Come sempre, prima di partire, vi chiedo un piccolo gesto gratuito, un bel like, per supportare il mio progetto di educazione finanziaria. Ricordo sempre che un investitore educato dal punto di vista finanziario è consapevole di quello che sta facendo, consapevole dei rischi che sta correndo, ma anche delle opportunità che può andare a cogliere con i propri investimenti. Bisogna sempre avere ben chiaro qual è il proprio obiettivo di investimento e in base ai propri obiettivi puoi calibrare i propri, diciamo, e puoi scegliere i propri strumenti di investimento tali che possono permetterci di raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube, ormai la community conta più di 1020 iscritti, siamo veramente in tantissimi, molto attivi, mi piace leggere i vostri commenti, anche se sono, diciamo, opinioni discordanti delle mie, possono essere comunque opportunità di crescita anche per me. Quindi, insomma, iscrivetevi, attivate le notifiche per ricevere una segnalazione ogni volta che ci sarà un nuovo video e commentate, commentate, commentate. Andiamo quindi a vedere, diciamo, quali sono i migliori ETF, ma soprattutto più di dire quali sono i migliori ETF, nello specifico come si fa a sceglierli. Allora, partiamo da una premessa. Io non posso dirvi qual è il miglior ETF da comprare oggi, in base ai rendimenti futuri. Perché? Semplicemente perché nessuno può sapere quali saranno i rendimenti dei prossimi giorni, dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Quindi, creiamoci un obiettivo finanziario, cerchiamo di capire come poterlo raggiungere, cerchiamo di capire in quali segmenti vogliamo investire e poi, a caduta, andiamo a scegliere, eventualmente, se vogliamo investire tramite ETF, andiamo a scegliere lo strumento più adatto a raggiungere i nostri obiettivi. Allora, oggi farò un video molto, molto importante. Spero che, dopo aver visto questo video, continuate poi a seguirmi, perché pone, diciamo, delle basi molto solide per andare a selezionare un ETF. Quindi potrebbe, di sicuro, rendervi molto autonomi nella scelta di un ETF. Però, insomma, dai, conto sulla vostra presenza sempre sul mio canale, perché poi parlo di ETF, ma parlo anche di tante, tante altre cose, ovviamente. Soprattutto chi mi segue da tanto tempo lo sa benissimo. Allora, primo punto. Guardiamo la dimensione degli ETF. Cosa vuol dire? Ogni ETF ha un patrimonio in gestione, quindi più investitori mettono soldi e più investitori comprano determinati ETF, chiaramente maggiori diventano le dimensioni, quindi il patrimonio gestito dalla società di gestione del risparmio di questo ETF. E più grande è l'ETF, meglio è. Perché? Perché gli ETF più grandi sono in grado di sfruttare le economie di scala per minimizzare i costi e, in più, gli ETF più grandi sono meno soggetti alla liquidazione e alle conseguenze avverse che ne derivano per i nostri rendimenti. Gli ETF chiaramente devono avere una certa dimensione per poter essere sostenibili. Oltre una certa soglia, i profitti degli ETF salgono più velocemente rispetto ai costi. Per questo la dimensione del fondo è un buon indicatore della durata del prodotto e della sua popolarità. Chiaramente appena c'è il lancio di un ETF, abbiamo visto nell'articolo del primo settembre che era stato lanciato un nuovo ETF da parte di Tabula, appena un ETF viene lanciato si trova subito a dover combattere contro il tempo per dare prova di se stesso. La maggior parte dei fornitori di ETF danno ai loro nuovi prodotti il tempo di un anno per diventare grandi abbastanza per essere redditizi. Dopo 12 mesi, se l'ETF non è sostenibile, si rischia che venga chiuso. Avevamo già fatto un video, magari ve lo metto nella descrizione a questo video, magari lo metto anche nei commenti. Avevo fatto un video nella quale si diceva cosa succede se un ETF chiude. Quindi attenzione perché comunque c'è un impatto nel caso di liquidazione anticipata dell'ETF. Ricordiamo che gli ETF, come tutti i fondi, non hanno una scadenza. Quindi dicevamo quali sono i vantaggi degli ETF più grandi? L'ETF aumenta il volume delle attività in gestione e più aumenta tale volume, più è facile ridurre i relativi indici di spesa, in quanto i costi incorrono come quota dei ricavi. Ciò vale in particolar modo per gli ETF che replicano indici di mercato come il Fuzimib o l'MCI World. L'ampiezza di questi mercati offre agli ETF più popolari maggiore spazio di manovra nella gestione dei costi e l'incentivo di ottenere profitti. Gli investitori hanno tratto vantaggio da questa forte competizione tra i fornitori di prodotti che si è venuta a creare e che ha contribuito alla continua discesa degli indici di spesa. I grandi ETF tendono anche a avere elevati volumi di negoziazione che consentono agli investitori di acquistare e vendere più facilmente le quote sul mercato, pagando differenziali B-Desk più bassi. Cosa vuol dire? Pagando in pratica quella differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita, avere appunto un differenziale più basso tra questi due valori, in quanto i market maker possono far incontrare la domanda dell'offerta con maggior facilità. Quindi facciamo un esempio molto banale, se io ho l'ETF X che ha un prezzo di vendita di 40 e un prezzo d'acquisto di 41, abbiamo una differenza BID-ASK di 1 euro, veramente tanto. Un ETF di grandi dimensioni, probabilmente anche molto più liquido e magari potrebbe avere un prezzo BID di 40,45 e un prezzo ASK di 40,50, quindi soltanto uno 0,05 di differenza. Sembra poco, ma comprando magari con una certa frequenza anche questo differenziale va a inficiare in maniera positiva o negativa sui nostri rendimenti finali. Cosa succede se l'ETF viene liquidato? Qui lo diciamo velocemente. Gli ETF non redditizi vengono chiusi, è veramente una condizione tanto negativa quanto sembra che vale la pena evitare. Il principale aspetto da ricordare al riguardo è che non si hanno perdite monetarie nel momento in cui viene liquidato l'ETF, a meno che la quota non sia 0, insomma, diciamo ipotesi molto molto limite. Chiaramente cosa succede? L'ETF viene liquidato, le attività sottostanti ovvero le azioni o le obbligazioni che sono dentro l'ETF vengono vendute e il ricavato viene riconosciuto all'investitore. Chiaramente cosa può succedere? Può succedere che passino diciamo tanti giorni prima di avere la liquidazione sul proprio conto corrente e in più nel caso l'ETF liquidato sia in guadagno e devo anche pagare delle tasse che magari avrei potuto procrastinare mantenendo invece il mio portafoglio, il mio ETF in portafoglio. Comunque per l'approfondimento vi posterò il link al mio video nel quale ho proprio sviscerato tutte le motivazioni e tutte le ripercussioni che hanno le liquidazioni degli ETF. Allora in questa tabella vediamo invece quali sono i 10 ETF con le maggiori dimensioni presenti sulla nostra borsa. Vediamo in questa classifica in particolar modo tantissimi ETF iShares, quindi quelli di BlackRock e diciamo anche un Vanguard, in particolare il Vanguard Standard & Poor's 500. Possiamo vedere come gli indici sottostanti sono lo Standard & Poor's 500, l'MCI World ancora lo Standard & Poor's 500, poi l'oro, i mercati emergenti, ancora l'oro, l'oro, le obbligazioni corporate euro, poi di nuovo lo Standard & Poor's 500 e il FUZI 100, ovvero l'indice azionario britannico. Abbiamo visto in definitiva che lo Standard & Poor's 500 e gli MSI World sono gli indici più ricalcati dagli investitori. perché questo? Perché chiaramente offrono la maggiore diversificazione. Lo Standard & Poor's 500 è il maggior indice americano, ampissima diversificazione e comunque ricordiamo che la borsa americana pesa tantissimo all'interno dell'economia mondiale. Gli MSI World invece è proprio l'espressione della massima diversificazione dal punto di vista azionario e quindi è anche l'indice più comodo da andare a ricalcare per chi vuole cavalcare la crescita economica mondiale. I TER, quindi i coefficienti di spesa, sono veramente bassissimi. Come possiamo vedere andiamo da un minimo dello 0,07% a un massimo dello 0,20%. Quindi insomma possiamo vedere delle spese molto molto contenute per questi ETF. Cos'altro dire? Quando si sceglie un ETF può essere comunque interessante andare a vedere magari la scheda del prodotto. Noi possiamo vedere sempre su JustETF che è un ottimo sito, secondo la mia opinione. Poi ce ne sono anche tanti altri per andare a confrontare gli ETF. Ne avevamo già parlato. Possiamo vedere comunque oltre alla dimensione possiamo vedere l'indicatore di costo, l'eventuale frequenza di distribuzione dei dividendi, in questo caso trimestrale, il rischio cambio se c'è copertura valutaria o meno, in questo caso non c'è copertura valutaria, quindi piena esposizione al cambio euro-dollaro, la replica che in questo caso è fisica e totale, la volatilità che chiaramente cambia nel tempo e poi insomma i vari rendimenti, le performance e anche la descrizione in cosa diciamo investe l'ETF. Ma se uno vuole sapere proprio che titoli ci sono dentro l'ETF un'ottima idea è quella di andare direttamente sul sito dell'emittente. Io mi ero già preparato, è molto semplice, uno può prendere banalmente il nome dell'ETF oppure l'ISIN che possiamo vedere qui in alto, digitarlo su Google, molto molto banale la cosa, e va direttamente sul sito dell'emittente, in questo caso Vanguard, possiamo vedere. Quindi oltre ai vari dati, le informazioni sul fondo, la politica di investimento e tante e tante altre cose, le performance ottenute dall'ETF, chiaramente ricordiamo che le performance passate non sono garanzie delle performance future, vediamo l'andamento e poi possiamo vedere anche i dati di portafoglio che sono diciamo quelli che a me sinceramente interessano un pochino di più. In questo caso un rapporto prezzo utile delle azioni che sono dentro all'ETF 26.4, sappiamo benissimo che la borsa americana è cara, in particolare perché è trainata dalla grandissima crescita dei tecnologici, l'abbiamo già detto tante volte e continuerò a ripeterlo se diciamo il mercato rimarrà in queste condizioni, comunque vediamo il tasso di crescita degli utili molto interessante del 14%, un ROI del 20%, insomma comunque sono valori medi sui titoli che sono in portafoglio, le azioni che sono dentro a questo ETF hanno una capitalizzazione large, quindi diciamo di grandissime dimensioni per l'80% dei casi, infatti sappiamo benissimo che il mercato americano è veramente concentrato più che mai su aziende a grandissima capitalizzazione, quindi grandissime aziende, l'esposizione per regione chiaramente in questo caso è 100% Nord America e possiamo vedere l'esposizione anche in base al settore di investimento, come abbiamo detto l'informatica, quindi il tecnologico supera di gran lunga il 25%, si avvicina al 30% e poi molto molto interessante vedere le singole azioni, il peso che hanno all'interno di questo ETF, secondo me è molto molto interessante, magari un po' meno per lo Standard & Poor's 500 perché comunque è un indice molto molto generico possiamo dire, ma magari per l'ETF un pochino più di nicchia dove le azioni sono meno e potrebbe essere invece interessante vedere quali sono le azioni che pesano maggiormente all'interno dell'ETF. In questo caso vediamo che come sappiamo lo Standard & Poor's è composto da 505 azioni, perché 505 e non 500? Perché 500 sono le aziende diciamo quotate ma 5 di queste hanno due classi di azioni, ad esempio Alphabet ovvero Google ha la classe C e la classe A, anche Berkshire Hathaway ha comunque due classi di azioni ad esempio. Ma tornando al peso delle singole azioni all'interno di questo ETF possiamo vedere in questo caso Apple come vale bene il 6,65% dell'ETF, Microsoft il 5,6% poi a seguire Amazon, Facebook, Alphabet classe C, Alphabet classe A, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Procter & Gamble e poi abbiamo Visa. Quindi possiamo vedere come da sole le prime 5 posizioni valgono un 12 più 5, 17, 19 circa il 22% soltanto le prime 5 aziende, considerando Google C e Google A la stessa azienda ovviamente. Quindi insomma molta molta concentrazione in poche aziende. Poi se uno fosse così diciamo pignolo da volendo andare a vedere tutte le singole partecipazioni, clicca sul link e si può andare a spulciare tutte le singole posizioni all'interno di questo ETF. 505 sono veramente tantissime, adesso non andiamo a vederle però possiamo vedere ad esempio non so Pepsi vale lo 0,68 così come Coca-Cola, Pfizer 0,72, Intel 0,78. Nella giornata di ieri Intel è letteralmente crollata in base alla trimestrale però questo è un altro discorso quindi possiamo vedere al 30 settembre la composizione totale dell'ETF. Allora qui abbiamo visto quindi alcune lì di guida per andare a scegliere i migliori ETF per investire i nostri sudati soldi, i nostri sudati risparmi. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete domande, se avete opinioni, se volete chiedermi qualsiasi cosa scrivetemi pure nei commenti a questo video. Come sempre mi trovate anche sul mio blog dividendi.wordpress.com e mi trovate sulla pagina Facebook, sull'account Twitter e su quello Instagram. Quindi anche per oggi abbiamo finito, un caro saluto da Lorenzo, ci sentiamo presto, ciao!